Ieri, oggi e domani, con il Foggia sempre in cima ai pensieri. Ecco quello che ieri pomeriggio accadeva allo Zaccheria durante l'allenamento dei Rossoneri a porte aperte. Ed ecco invece l'atmosfera che oggi si respira in città a poche ore dalla madre di tutte le battaglie. La squadra c'è, c'è sempre stata, spero principalmente che si salvi. Sì, speriamo che Foggia salinzeriamo, sì. Ci salveremo sicuramente. Domani la laguna si tingerà di rosso-nero, saranno in 2000 passa sulle tribune del Penso a trascinare Iemmello e compagni verso quella vittoria che sarebbe determinante ai fini della salvezza. Senza Venezia penso che sia la tappa fondamentale del nostro percorso, perché senza Venezia non c'è Livorno. Quindi in Venezia l'importante è andare lì, cercare di fare la nostra partita come sappiamo e sapere che possiamo vincere benissimo. Ieri, oggi e domani, sempre e solo con il Foggia nel cuore. No, questo straordinario patrimonio non può proprio disperdersi nel nudo.